signori buongiorno e bentornati sul canale master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e ritorniamo a parlare di personaggi giocanti questa settimana andando ad approfondire un argomento di cui in realtà avevamo già fatto un paio di anticipazioni oramai due mesi fa quando parliamo del gruppo dei pg o il gruppo dei personaggi giocanti ci riferiamo a i personaggi che sono effettivamente direttamente controllati dai giocatori che sono seduti al tavolo di questa avanti già parlato nel primo video di questa stagione nel caso lo lascio linkato qua in alto se dovete andare a recuperare diciamo comunque che questi concetti da ora in poi li diamo per assodati non stiamo a definirli oltre in quel video però abbiamo detto che non si deve dare per scontato che il gruppo di gioco sia composto esclusivamente dai personaggi giocanti perché all'interno di quello che è il party degli avventurieri potrebbe esserci anche una serie di png che per un motivo o per l'altro sono sotto il controllo dei giocatori normalmente si tratta di un numero molto limitato di png che seguono il party questo non esclude però che i giocatori nel corso delle loro avventure non possano aggregare intorno al loro party una quantità molto molto più grande di png che in un modo o nell'altro dipendono da loro ma un grosso insieme di png tutti uniti da uno scopo comune se vi ricordate i video alla seconda stagione vanno a creare quello che all'interno dell'ecosistema dei png di una campagna è di per sé una fazione e il fatto che i giocatori abbiano una loro fazione o che i loro personaggi siano all'interno una fazione che già esisteva in campagna potrebbe rivelarsi per il master qualcosa non solo di interessante a sviluppare all'interno del mondo di gioco ma anche estremamente utile per vari motivi che cosa sia una fazione come la si caratterizza e quale sia il suo ruolo interno di una campagna sono tutte cose di cui abbiamo già parlato la stagione scorsa quindi non starò qui a ripetervi mi lascio anche in questo caso un link al video se dovete andarlo a recuperare diciamo però che per quanto riguarda noi in questo video una fazione è semplicemente un insieme di png che hanno una forte motivazione comune una fazione normalmente ha anche una sua caratterizzazione e soprattutto è un modo che i giocatori hanno per riconoscere velocemente l'affiliazione dei vari png che incontreranno nel corso la loro avventura ed è quasi scontato che prima o poi i personaggi giocanti entrano in contatto con i png che rappresentino una o un'altra fazione all'interno del mondo di gioco che siano i nobili cavalieri del re buono che li contattano per affidargli una missione che siano i pirati degli asteroidi che cercano di assaltargli la nave ogni volta che passano in una determinata zona è anche possibile che i giocatori trovando utile o interessante una delle fazioni all'interno del gioco decida che i loro personaggi si affilino più o meno strettamente con una di questa magari diventando alleati o diventando proprio membri di quella fazione magari a un certo punto i giocatori decidono che effettivamente è interessante la vita di un pirata e gli asteroidi e cerchi in un modo di unirsi alla ciurma dei pirati e se vi ricordate nel video su come si raduna il gruppo di personaggi giocanti abbiamo detto che uno dei modi è quello che i personaggi potrebbero essere radunati da un mentore in questo caso è molto probabile che il gioco inizi già con i personaggi che fanno parte di una fazione all'interno del gioco probabilmente controllata o di cui comunque fa parte anche il loro mentore il fatto comunque che i personaggi giocanti facciano parte di un'organizzazione più vasta all'interno del mondo di gioco è qualcosa che per il master può avere molti risvolti utili sia da un punto di vista dello sviluppo delle varie trame delle varie quest interne alla narrazione della campagna stessa sia anche per vari motivi meccanici in base al tipo di regolamento che sta venendo utilizzato il modo più ovvio e diretto per sfruttare l'appartenenza dei personaggi a una determinata fazione del mondo di gioco è quello di utilizzare proprio questa fazione per giustificare tutte le possibili avventure e imprese in cui i personaggi verranno poi coinvolti nel corso della campagna se i giocatori vogliono affiliarsi con i pirati degli asteroidi gli pirati e gli asteroidi a quel punto gli affideranno delle missioni in cui devono andare ad abbordare gli altre navi o comunque svolgere altri servizi per la flotta pirata dopo tutto adesso sono dipendenti di quella fazione anche solo magari il fatto di potersi affiliare con la fazione richiederà che i personaggi facciano qualcosa magari i pirati non accettano chiunque nella loro flotta e quindi pretenderanno che i giocatori commettano un qualche tipo di atto di pirateria che loro possano valutare per capire se questa è gente che vorrebbero o non vorrebbero avere in mezzo dei loro ma magari anche più banalmente i pirati chiederanno che ci sia una tassa di iscrizione e quindi adesso sanno i giocatori a doversi inventare qualcosa per raccimolare i soldi per pagarsi l'iscrizione alla fazione e una volta che sono riusciti a entrare nella fazione ha senso oltre che gli vengano date delle missioni o comunque gli incarichi che normalmente un membro di quella fazione deve portare a termine che voi come master organizziate anche degli archi narrativi che prevedano che loro facciano qualcosa di particolare per mettersi in mostra e quindi magari avanzare di grado avanzare di prestigio all'interno della fazione stessa chiunque entri nell'ordine dei paladini del regno lo fa con rango di scudiero ma dopo che ha dato atto del suo valore in battaglia più volte contro nemici adeguatamente malvagi allora a quel punto potrà essere effettivamente ordinato cavaliere e quindi riceverà armi e armature magiche e un cavallo in quanto cavaliere se questi sono ganci narrativi relativamente scontati non dimenticatevi che la vera grande risorsa che una fazione offre al master non sono le possibilità di impiego per i personaggi giocanti ma l'essere un serbatoio virtualmente infinito che giustifichi la presenza e l'arrivo di nuovi png all'interno della storia della vostra campagna la fazione dopo tutto è un insieme di png quindi ognuno di questi png può in un determinato momento diventare un elemento focale attorno a cui può essere costruita una narrativa o anche solo un modo per il master per esprimere un determinato punto di vista sul mondo di gioco ai giocatori stessi facendo in modo che quel png interagisca con i loro personaggi ovviamente a loro volta questi png potrebbero offrire qualche tipo di servizio ricompensa o aiuto per i personaggi giocanti se non avere bisogno di aiuto e quindi fornire ganci narrativi e spunti per quest che hanno bisogno che i personaggi portino a termine in questo caso magari non cose che riguardano gli obiettivi della fazione del suo insieme ma magari gli obiettivi del determinato png all'interno della fazione stessa creando un gioco politico interno alla fazione stessa e alle sue varie sottofazioni chiunque di voi abbia mai lavorato in un ufficio sa esattamente di cosa sto parlando anche solo il fatto che questa riserva di png esista può diventare uno strumento utile al master per esempio a giustificare la presenza di un nuovo personaggio giocante all'interno del gruppo magari uno dei personaggi muore o c'è un qualunque altro motivo per cui quello specifico personaggio non avrebbe più senso all'interno della campagna e quindi viene ritirato e adesso il giocatore deve trovare un nuovo personaggio a giocare diventerebbe abbastanza debilitante e destabilizzante dover tirare fuori un estraneo che per qualche motivo decide di unirsi proprio a quel gruppo e richiederebbe varie giustificazioni narrative ma se quel personaggio è semplicemente un altro dei membri della fazione che adesso va a rimpolpare il gruppo la cosa sarà molto più facile da giustificare in quest anzi potrebbe essere anche una cosa scontata uno degli specialisti del gruppo se n'è andato e quindi la loro fazione fare in modo che un altro specialista gli venga fornito per mantenere il numero minimo della squadra o quello che è e questo per il personaggio nuovo giustifica anche un sacco di conoscenze che teoricamente non potrebbe avere ma in realtà essendo un membro della stessa fazione lui potrebbe già conoscere le imprese dei personaggi semplicemente perché ne ha sentito parlare dagli altri suoi colleghi dagli altri suoi alleati e magari i personaggi stessi lo conoscono potrebbe essere magari anche un png che effettivamente è già stato nominato all'interno della campagna e quel giocatore ha deciso di promuoverlo a personaggio giocante facendo diventare il suo personaggio perché l'aveva trovato interessante quando il master l'aveva presentato ovviamente a un livello estremamente più banale la fazione potrebbe essere anche un'ottima giustificazione interna al gioco per permettere ai personaggi di acquistare merci servizi aiuti tutti quegli altri buff per i personaggi che magari sarebbe difficile giustificare presenti sul mercato libero dipende alle ambientazioni ma sarebbe molto più facile portare in gioco attraverso altri emissari della fazione senza che questo vada a destabilizzare più di tanto la sospensione dell'incredulità sì il nostro gruppo è ricco e potente quindi possiamo mettere mano su armi che tecnicamente sono di livello militare anche se noi militari non lo siamo per ora abbiamo dato per scontato che i personaggi abbiano voluto unirsi a una fazione che era già presente all'interno del mondo di gioco ma all'inizio abbiamo detto che non è questo l'unico caso anzi è possibile che i personaggi vogliano creare una loro fazione con loro al centro di tutto e anche nel caso questa non sia la loro intenzione dichiarata può benissimo darsi che sia semplicemente una naturale evoluzione della campagna se il gruppo è particolarmente intraprendente e non si fa tanti scrupoli a utilizzare anche dei png per degli aiuti esterni può benissimo darsi che semplicemente man mano che la campagna procede man mano che i personaggi diventano sempre più famosi ricchi potenti o quello che è intorno a loro venga a crearsi un numero di png alle loro dipendenze tale che di fatto i personaggi che lo vogliano meno sono al centro di una nuova fazione all'interno del mondo uno dei classici trope delle avventure fantasy che i personaggi raggiunto un determinato livello reclamino il possesso di un castello ne facciano costruire uno e diventino essendo i signori feudali di una determinata zona ora ovviamente non puoi gestire un regno in quattro persone avranno comunque bisogno di uomini d'armi di mettere da picchietto le loro mura e avranno dei contadini alle loro dipendenze che gli devono ripagare delle tasse i personaggi in questo caso sono palesemente al centro della fazione del loro micro regno medievale più banalmente però i personaggi potrebbero trovarsi nella situazione e dover assumere del personale per esigenze magari anche intrinseche all'ambientazione in cui si trovano i personaggi che non si sono uniti ai pirati e agli asteroidi comunque avranno la loro astronave con cui dovranno astronavigare da un pianeta all'altro a seconda dell'ambientazione riferimento l'equipaggio di questa astronave potrebbe essere composto dai soli giocatori ma potrebbe aver bisogno di decine di persone o centinaia di persone per mantenere le operazioni di bordo e in alcune ambientazioni una grossa nave potrebbe avere migliaia o decine di migliaia di marinai imbarcati tutto quello che però abbiamo detto finora rimane valido così come per una fazione che era già esistente come per una fazione che i personaggi hanno creato volontariamente o involontariamente dai ranghi dei loro dipendenti potrebbero essere generati nuovi personaggi giocanti nel caso uno di loro muoio se ne vada questi png avranno i loro archi narrativi e i giocatori dovranno assecondare quello che succede agli uomini e loro dipendenze per evitare di perdere il controllo della stessa fazione e ovviamente dipenderà da che tipo di fazione sono e qual è lo scopo dei giocatori ma ovviamente i giocatori essendo a capo la loro fazione saranno i primi a dover intervenire nel caso succeda qualcosa di contrario agli interessi della fazione stessa questi ovviamente sono solamente gli aspetti fondamentali più basilari di una fazione nello specifico dovranno poi essere applicati in base alla situazione specifica in base all'ambientazione specifica in base al mondo di gioco specifico ci dovrà essere un lavoro da parte del master o del master e anche dei giocatori assieme per fare in modo che la fazione dei giocatori sia un elemento integrato e verosimile all'interno del mondo di gioco diciamo comunque che per quanto basilare questo è quello che vi permette di introdurre una fazione dei giocatori in maniera abbastanza efficace e anche i motivi per cui sareste caldamente consigliati a farlo quindi possiamo dire che per questo video è tutto adesso la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti se vi è mai capitato di dover appunto gestire la fazione dei giocatori o se voi siete un giocatore che ha dato vita a una fazione all'interno della campagna può servire anche come esempio per gli altri come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like che condividete dovuto accrescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche in descrizione trovate i link del server di disco del gruppo itelega dove metto io gli annunci dei video manualmente io sono il master cae e noi ci vediamo al prossimo video ciao